Ciao a tutti ragazzi e bentornati, nel video scorso vi ho parlato riguardo a quale monitor andare a scegliere per le vostre esigenze rispetto a fps, hertz e quant'altro e ho fatto un'affermazione riguardo ai cavi ma non sono entrato nello specifico, vi ho detto che infatti vi avrei parlato dei cavi proprio in un video dedicato infatti sono stato fin troppo generico, oggi invece vedremo un po' tutti questi falsi miti che ci sono intorno ai cavi e analizzeremo un po' le specifiche dei vari connettori e le varie tipologie di connessione presenti sul mercato vi farò anche un po' di storia per quanto riguarda questo mondo e poi parliamo delle più importanti che probabilmente sono sostanzialmente tre ovvero HDMI, DisplayPort e la nostra ultimissima e fantastica USB-C ma prima di iniziare voglio ringraziare lo sponsor di oggi ovvero Wookies se avete la necessità di acquistare delle licenze Windows oppure Office o addirittura fare dei regali grazie alle carte regalo delle varie console beh questo sito è assolutamente fatto per voi utilizzando poi il mio codice GH20 durante la fase d'acquisto potrete avere ben il 20% di sconto e ad esempio pagare Windows 10 Pro a 13€ quindi veramente un prezzo fantastico considerando i costi delle licenze tradizionali la licenza tra l'altro sarà perenne quindi non vi preoccupate è vostra, fatta e finita per attivare poi la chiave è veramente molto molto semplice, lo può fare chiunque basta acquistare la licenza, nella vostra dashboard troverete poi il codice, lo copiate, lo incollate nel processo di attivazione di Windows che è disponibile nel pannello di controllo e il gioco è fatto, veramente ci vuole un istante chiunque può farlo anche se non siete tanto pratici con i PC vi ricordo nuovamente che potrete avere quindi il 20% di sconto utilizzando il mio codice vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione bene, partiamo con un po' di storia, ovvero la VGA il connettore è quello che vi mostro qui in video VGA sta per Video Graphics Array, poco importa sinceramente ed è quel connettore che è stato disponibile praticamente per decenni sui monitor quelli CRT quelli di un tempo, non quelli piatti che abbiamo noi sebbene poi si è vista comunque anche su tanti altri dispositivi e ancora oggi su alcuni è ancora presente soprattutto su proiettori economici in quel caso però viene fatta una conversione da analogico a digitale il che fa rovinare sicuramente l'immagine e questo è un problema che poi si è risolto con tutte le altre porte tecnicamente ci si può spingere fino al Full HD e in alcune situazioni può essere ancora utile ma diciamo non per l'utenza consumer tradizionale quindi diciamo che ormai è un connettore lasciato in disuso ed è normale che sia così non perdiamo quindi altro tempo passiamo a un'altra porta che ha avuto la sua grandissima storia negli anni passati ovvero la DVI ah vi dirò tutti questi acronimi in italiano così non ci sbagliamo ce ne dovremmo dire anche HDMI e non HDMI come dice qualcuno facciamo così italiano e siamo tranquilli ad ogni modo stavamo parlando della DVI che ovviamente in acronimo inglese vuol dire Digital Visual Interface e praticamente ha preso il posto poi della VGA nel tempo non è stato un periodo storico molto particolare per quanto riguarda questo connettore però è servito a passare da analogico a digitale in realtà bisogna specificare una cosa questa porta che avete visto qui in video ha ben 5 tipi di connessioni diverse abbiamo la DVI-A che praticamente è esattamente come la VGA perché A sta per analogico abbiamo poi la DVI-D che ha ben due tipologie diverse di connessione che sono entrambi connettori digitali e infine abbiamo la DVI-I non è una ripetizione che invece porta con sé sia segnale analogico che digitale allora diciamo che quella più comune che molto probabilmente avrete visto tantissime volte almeno chi ha una certa età è la DVI-D perché nella sua versione con doppia banda quindi con doppia velocità e trasferimento di dati vi permetteva di arrivare a risoluzioni comunque interessanti se non ricordo male fino a 2560x1600 pixel era sicuramente la miglior connessione possibile prima dell'arrivo dell'HDMI e del DisplayPort e ora ci addentriamo nel mondo più complesso è strano perché crea più confusione e falsi miti ovvero l'HDMI l'HDMI la conoscete tutti è disponibile praticamente su qualsiasi dispositivo che trasferisca video, immagini ma non solo infatti l'HDMI dalla parte sua ha avuto un grandissimo successo grazie al fatto che potesse essere utilizzata anche per diverse cose quindi non solo audio e video ma anche di poter controllare dispositivi esterni ad esempio le soundware noi possiamo tranquillamente collegare una soundbar al nostro televisore e direttamente dal televisore gestirne la sua accensione, spegnimento ma anche regolazione del volume o tante altre cose se voi ci fate caso molti dispositivi con un semplice cavo HDMI possono essere controllati facilmente e questa è stata una grandissima rivoluzione l'HDMI veramente ha portato un cambiamento radicale però giusto per creare grande confusione sono state introdotte varie versioni in realtà sono dei miglioramenti nel tempo rispetto poi alle richieste del mercato delle varie risoluzioni e qualità si parte da quella che è stata la più diffusa negli ultimi anni prima dell'arrivo delle nuove super veloci ovvero la 1.4 che ci limita però a un 4K come massimo intendo a 24 fps non di più quindi non possiamo avere i nostri 60 fps con questo tipo di connessione possiamo avere delle buone frequenze a risoluzioni più basse ma diciamo che non è quella ideale c'è stata poi la versione 2.0 che ha portato invece il 4K a 60 fps e il Full HD a 144 Hz e infine la più recente anche se stiamo parlando probabilmente di 3-4 anni la 2.1 che ci spinge fino praticamente al famoso e introvabile 10K la differenza più importante di queste connessioni non è soltanto ovviamente la risoluzione che possiamo raggiungere ma anche l'intensità e la profondità della gamma cromatica quindi si ha effettivamente una differenza per quanto riguarda proprio la qualità e la percezione visiva delle immagini che vedremo a video perché la banda passante come ho detto prima è migliorata passando dagli 8 bit della 1.4 a salire fino ai 10, 12 e così via in questo ultimissimo passaggio quindi che ci ha portato la 2.1 ci ha dato anche la possibilità di vedere la nuova tecnologia che sta tanto spopolando ovvero l'HDR oggi non voglio entrare nel merito di questa specifica tecnologia perché potrebbe meritare veramente un video dedicato fatemi sapere se vi interessa qui sotto nei commenti ora però vi svelo un falso mito riguardo l'HDMI perché nel video scorso vi ho detto che per avere determinate risoluzioni o meglio qualità visive sarebbe stato meglio acquistare un cavo della seconda generazione HDMI però questo non è totalmente vero diciamo che potrebbe migliorare leggermente la qualità grafica ma sinceramente è molto difficile che voi possiate riconoscere la differenza tra i vari cavi perché il cavo di per sé e non sto parlando dei connettori proprio del cavo non ha una logica interna il cavo HDMI è semplicemente RAM quindi sono fili che vi permettono quindi di connettervi tranquillamente da un dispositivo all'altro non avendo logica interna passano semplicemente i dati tutto qui quelli che fanno la differenza sono i connettori quindi quello che è presente sul dispositivo che andrete a utilizzare o sui dispositivi quindi per sé non è importante se il cavo sia compatibile o meno con la 2.0 o la 2.1 questo è tutto marketing quindi l'unica cosa di cui voi vi dovete veramente preoccupare è che il dispositivo che farà partire il video ovvero una Playstation 5 oppure un registratore un Blu-ray qualsiasi altra cosa o anche un computer possegga la stessa identica porta HDMI che possiede un televisore oppure un monitor questa è l'unica cosa della quale vi dovete preoccupare il cavo di per sé è semplicemente un cavo tutto qui quindi che sia vecchio o che sia nuovo poco importa molto probabilmente quelli un po' più costosi sono solo realizzati un po' meglio a livello anche di copertura di connettore e quindi vi potrebbero durare di più nel tempo perché di per sé le HDMI purtroppo sono molto fragili come porte quindi i connettori tendono a rovinarsi veramente in maniera molto molto semplice e veloce quindi l'acquisto di un buon cavo garantisce più questo che il discorso di qualità e questo era un falso mito che bisognava un po' raccontare per concludere poi col mondo HDMI vi voglio dire semplicemente che ci sono diverse tipologie di connettori HDMI micro, mini e quello tradizionale micro e mini tendenzialmente sono presenti su dispositivi come fotocamere videocamere e cose diciamo portatili comunque per la mobilità e come vedete la maggior parte del video sarà proprio su questa HDMI perché è quella più complessa l'altro connettore molto famoso che troverete su tutte le schede grafiche è la DisplayPort fino all'arrivo dell'HDMI 2.0 la DisplayPort è stata la porta in assoluto migliore sul mercato non c'era nulla che permettesse di arrivare a tale risoluzione e frequenze ma ancora oggi dice la sua e andremo a vedere un attimo nel dettaglio perché vi sto dicendo questo già la versione 1.2 della DisplayPort poteva darvi il 4K a 60Hz cosa che non poteva fare invece l'HDMI 1.4 come abbiamo visto prima le nuove versioni invece tipo la 1.4 praticamente la stessa dell'HDMI in questo senso porta però all'8K quindi ci dà già tutto quello che serve pensando anche a risoluzioni più basse tipo il 4K e non l'8K possiamo già spingerci a 144Hz cosa abbastanza incredibile visto che è praticamente impossibile utilizzare un monitor di questo tipo oggigiorno perché dovremmo avere veramente PC stracostosi e su pochi giochi riusciremo a avere in 4K tali frequenze qui diciamo che DisplayPort per ora ancora risulta essere una porta molto interessante il vantaggio più incredibile che ha la DisplayPort rispetto ad un HDMI o quant'altro è il fatto di poter splittare il segnale video cosa vuol dire splittare il segnale video in questo termine molto poco italiano beh vuol dire semplicemente connettere una singola porta presente sulla vostra scheda grafica a più di un monitor e come si fa? beh ci sono dei monitor compatibili quindi voi collegate il computer al primo monitor e dal primo monitor è presente un'altra porta DisplayPort che vi connette poi al secondo monitor questo è molto comodo soprattutto su dispositivi che hanno poche porte a disposizione magari avete soltanto la DisplayPort libera oppure per altri motivi e potete tranquillamente quindi dividere il segnale video potete farlo anche con dispositivi esterni dove è presente la tecnologia MST non entro ora nel dettaglio di questa tecnologia ma la stessa presente sui monitor di cui vi ho parlato un secondo fa è come se avessimo quasi un hub uno switch per porte video e con la DisplayPort questo è fattibile ci sono delle soluzioni anche per HDMI ma non sono così efficienti tra le altre cose si è notato anche come grazie al DisplayPort G-Sync FreeSync V-Sync e quant'altro funzionano decisamente meglio e offrono miglior qualità e minor problemi d'immagine tanto è vero che la stessa Invidia ha detto anche che è possibile utilizzare il G-Sync su monitor FreeSync ma solo ed esclusivamente con la DisplayPort so che questo possa sembrare strano ma è vero funziona così poi magari in un video dedicato parleremo di che cos'è questo mondo del G-Sync V-Sync FreeSync che crea tantissima confusione e siamo giunti all'ultimissima porta ovvero la USB-C e non ho tantissimo da dire a riguardo se non per il fatto che sia veramente una grandissima invenzione però la dedico e la penso soprattutto per il mondo della portabilità della mobilità infatti la USB-C la troviamo tantissimo sui nostri telefoni come anche sui nostri portatili soprattutto quelli di ultima generazione e il vantaggio incredibile della USB-C è quello di non portare soltanto il video ma di portare anche dati audio e anche energia perché con la Power Delivery possiamo tranquillamente anche alimentare dispositivi esterni come ad esempio altri monitor esterni e ce ne sono diversi sul mercato che anche connettendoli semplicemente tramite la USB-C vengono alimentati e ricevono anche segnale audio e video dal portatile e questa è una grandissima comodità può arrivare tranquillamente fino al 4K quindi non vedo l'ora di vedere evoluzioni future perché è una porta veramente molto interessante e quindi finalmente rispondiamo alla domanda che tanto ci stavamo ponendo ovvero quale cavo acquistare non importa non è il cavo la cosa importante ovviamente dobbiamo prendere quello giusto ovvero quei connettori giusti perché proprio sono i connettori la cosa importante da considerare come detto prima se sulla PlayStation 5 abbiamo un HDMI e in questo caso la 2.1 dobbiamo acquistare un televisore o monitor che abbia anch'esso un connettore 2.1 altrimenti non avendo questa sincronia tra le versioni non potremo godere poi di quello che effettivamente la console riesce a offrirci ad esempio l'HDR oppure le risoluzioni più alte frequenze più alte insomma non potremmo goderne infatti se il nostro televisore dovesse avere la 1.4 dell'HDMI potremmo andare ricordatevi solo a 4k 24 fps quindi anche se un giorno la PlayStation 5 nei sogni più grandi facesse 120 fps in 4k voi non potreste vederli dovreste avere comunque un televisore un po' più nuovo per i computer vale praticamente la stessa regola considerate che la maggior parte dei monitor ormai hanno sia la porta HDMI che la porta DisplayPort esattamente come le schede grafiche quindi una soluzione la trovate sicuramente se acquistate nuova generazione tendenzialmente le versioni sono quelle nuove quindi la 2.1 se siete in mobilità abbiamo visto come la USB-C sia la soluzione migliore ma non tutti i portatili ce l'hanno alcuni rimangono ancora con l'HDMI quindi vale la stessa regola che abbiamo visto per i televisori le console Blu-ray e quant'altro e lo so ragazzi che questo video è andato per le lunghe ma spero veramente di essere riuscito a spiegarvi un po' il mondo dei cavi o meglio dei connettori video così che insieme al video scorso voi siate in grado ormai di scegliere veramente in comodità e in autonomia il monitor migliore per voi rispetto al device che dovete utilizzare ragazzi io veramente ho detto tutto quindi come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su iscrivetevi al canale e noi ci vediamo sicuramente con il prossimo video a presto iscrivetevi al canale